Torta di mele al profumo di cannella La torta di mele al profumo di cannella è un dolce classico che vanta una lunga storia. Il suo sapore delicato, arricchito dalla presenza della cannella, ne fa una preparazione ideale per una merenda sana e gustosa. La ricetta prevede l'utilizzo di mele fresche, cannella in polvere e farina integrale. Per realizzare la torta di mele al profumo di cannella è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Inizia sbucciando le mele e tagliandole a fettine sottili. In una ciotola unisci le mele con lo zucchero di canna, la cannella in polvere, il succo di limone, un pizzico di sale e un cucchiaio di farina integrale. In un'altra ciotola mescola la farina integrale con lo zucchero, la vanillina, il bicarbonato e il burro fuso. Versa il composto di mele nella ciotola con la farina e mescola bene gli ingredienti con una spatola. Versa il composto in una teglia imburrata e infarinata e livellalo con un cucchiaio. In forna a centottantesimo per circa 40 minuti. Una volta cotta la torta di mele al profumo di cannella, lascia raffreddare e servi. Versa il composto in un ponte. Grazie a tutti.